Ciao Marcello, un saluto a Della e a tutti gli amici di Top Planet. Un'altra partita molto importante vinta dalla Juventus, si risiede contro la Roma, contro una squadra che lotterà, probabilmente lotterà con noi per lo scudetto insieme al Napoli e forse all'Inter. Una partita a mio avviso giocata benissimo dalla Juventus per almeno 75-80 minuti. C'è stata poi qualche sbavatura nel finale che quasi ci costava un pareggio che comunque non avremmo sicuramente meritato. La vittoria della Juventus a mio avviso è strameritata, abbiamo giocato molto meglio della Roma, questo quindi può essere molto importante anche dal punto di vista psicologico, tre punti importantissimi. stiamo crescendo di partito in partita, ci possiamo ritenere sicuramente quindi soddisfatti. Possiamo quindi passare un Natale felicissimo dopo la bella prestazione e bella vittoria di ieri sera. Auguro quindi un buon Natale, buone feste a tutti voi, a presto e sempre forza a Juve. Ciao! Ciao!